È fondamentale al fine di avere un quadro della situazione che si vuole affrontare e poter elaborare dei progetti che consentano sulla base dei numeri di affrontare il mercato. Normalmente i dati statistici sono legati al... noi operiamo nel settore industriale dei servizi ambientali per l'industria, quindi i dati statistici che a noi interessano sono quelli riferiti alle quantità, alle aree e alla tipologia. Di conseguenza per noi è molto importante avere dei dati possibilmente più precisi nella loro determinazione e credo che sul mercato si trovi un po' di tutto, ma ovviamente sono pochi quelli che riescono a elaborare dei dati puntuali come potrebbe essere l'Instagram. È fondamentale avere i dati aggiornati in quanto il mondo cambia in maniera molto veloce, le situazioni cambiano in modo veloce e di conseguenza è fondamentale avere i dati aggiornati al fine di poter agire e reagire sulla base di elementi pressoché certi.